Un grande saluto al pubblico dei social, finalmente ce l'abbiamo fatta, oggi è partito a casa nostra, quindi mi raccomando, seguiteci, 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 fateci sentire il vostro calore, amateci come noi faremo con voi, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 12.30, 14.30, tutte le settimane, a casa nostra, canale 33 del Digitale Terrestre, vi voglio bene, grazie, ciao.